Ciao ragazzi, allora ho bisogno di dirvi un paio di cose per le attività che faremo mercoledì 30. Per prima cosa, come ho già detto a qualcuno di voi, oltre a portare il libro di scienze dovete anche portare il librettino della professoressa Terrasi che si chiama Jump, una specie di diario di bordo della salute, non ricordo bene come si chiama. Invece per quanto riguarda la parte tecnologica, ho creato per voi due nuovi account di classe per semplificare tutte le operazioni. Allora il primo è una casella gmail unica per tutta la classe, tipo quella che avevate la professoressa Franeglia. L'indirizzo è bucchiterza-gmail.com. La password non ve la dico in questo video perché è un video pubblico, quindi quindi poi avremo la password per entrare. La trovate nei messaggi di ClassDojo, l'ho scritta nei messaggi di ClassDojo. Non so se li potete vedere anche voi o solo i vostri genitori, insomma comunque se non ce l'avete tutti passatevi parole, insomma la password che l'ho trovato là. Invece il secondo account che ho trovato è un account di Dropbox, sempre unico per tutta la classe e per accedere a questo account dovete utilizzare il nome della casella gmail che vi ho appena parlato, quindi dico terza, e la password sempre la stessa che trovate in ClassDojo, sempre quella per non creare problemi. Poi una volta che avete installato sul cellulare l'applicazione di Dropbox, so che alcuni di voi l'hanno già fatto, siccome probabilmente vi siete già collegati col vostro account che avevate creato prima, vi dovete scollegare e collegarvi con il nuovo, ve lo faccio vedere con il mio telefono. Allora, vediamo se ce la faccio, non è semplicissimo usarlo in questo modo qua. Allora dovete andare su Dropbox, adesso io sono collegata con il mio account, quindi non va bene, allora che cosa faccio? Allora, clicco su questo pulsante, quando trovate altro, cliccate su altro e poi cliccate su impostazioni. Una volta cliccato su impostazioni, cliccate su scollega, non so se si vede un attimino, non si vede, comunque c'è scritto scollega dispositivo da Dropbox, eccolo qua. scollega dispositivo da Dropbox, date l'ok, scollega e quindi a quel punto, dopo un pochino, ecco vi chiede un nuovo accesso, quando vi chiede questo nuovo accesso, allora voi inserite la mail che vi ho appena detto, quindi, intanto, cliccate su accedi, difficilissimo perché la telecamera è speculare, quindi quello che io vedo a destra in realtà è sinistra e viceversa. Allora, cliccate su accedi, perfetto, a questo punto mettete la vt3.gmail.com, la password chiaramente non la dico, ma la digite basta. Ok, quindi ho messo la luce, non so mai, ecco ho messo buchi terta e password, adesso clicco su accedi, adesso ce la fa, ok, perfetto, attenzione, vedete che vi si appare questa schermata con su scritto attiva caricamento da fotocamera, assolutamente voi non lo dovete fare, perché questo significa che, come si dice, che verrebbero caricate automaticamente tutte le foto del vostro cellulare sulla cartella unica di classe, che non mi sembra proprio il caso, quindi se vedete qua in basso, piccolo piccolo, c'è la parola salta e voi dovete cliccare proprio su questa parolina salta, in questo modo, ok, in questo modo non crea questo problema. Come vedete abbiamo già, come vedete, spero, non lo so, ecco, come vedete abbiamo già la cartella condivisa terza, ok, quindi non dovete fare niente, è già lì pronta. Ora, quando volete caricare il file di prova o un qualsiasi file su Dropbox, voi cosa fate? A questo punto uscite da Dropbox, quindi cliccate indietro e uscite, ho quello centrale, sono i miei bambini, andate, per esempio, sulla galleria delle foto, si apre, quasi scarico, ok, ok, selezionate una foto, questo è un cavallo che potete aver fatto ieri durante la gita, allora in basso, cliccate su condividi, ma queste cose le saprete sicuramente molto meglio di me, e vi compare tutta questa serie di roba, o meglio, quello che avete voi caricato sul vostro telefono, tra cui anche Dropbox. Quindi cliccate aggiungi a Dropbox, eccolo qua, cliccate sulla cartella terza e poi cliccate aggiungi, eh, scusate, sembro veramente incapace, mi rendo conto, però, appunto, c'è questo problema nella telecamera che è esattamente al contrario di come si vede, quindi, va bene, spero di essere stata chiara, comunque, per qualsiasi problema ci possa essere, vi chiedo di portare lunedì già il vostro cellulare, così lo vediamo assieme. Vi saluto, buona domenica, ciao ciao!